Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Pneumatico in strada in A12, tra Cole Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sulla FIPI-Li segnalato personale su strada per lavori in direzione Firenze tra Livorno e Darsena Toscana Est e in direzione Mare tra Firenze e Viadotto dell'Indiano e Firenze e Scandicci. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, per i lavori alla linea 2 della tramvia, in via di Novoli, nel tratto da via Tacchinardi a via Demidoff, in vigore un ristringimento di carreggiata fino al 4 settembre. Chiudiamo con il meteo e l'arma prevede per oggi in Toscana cielo poco nuvoloso, con nubi più consistenti in mattinata, temperature in lieve aumento le massime. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!